Dopo mesi di attesa spasmodica, infine è possibile giocare ad uno dei capisaldi del genere Battle Royale anche su PlayStation 4. Una collector davvero spettacolare di Player Unknown's Battleground è stata quindi paracadutata nella nostra redazione e siamo ben contenti di mostrarvi il loot che contiene. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti